Per puntare l'Italia per ripartire, perché lei dice che le fa paura chi vuole che tutto torni come prima? Questa è una cosa che ho detto nel mio programma l'altra mattina perché facevo una riflessione personale. Io penso che quando c'è una crisi o una situazione di emergenza nel mondo, ma anche nella vita personale, di coppia, qualsiasi cosa sia, non si può attraversare la crisi e poi voler essere quelli di prima, altrimenti non è servito a niente. E' come se Dante uscendo dall'inferno invece di andare al purgatorio ritornasse nella selva oscura. Allora io penso che al di là dell'atrocità di questa cosa, però c'è anche da fare un'analisi, io non parlo solo dei politici, parlo sempre dell'elettorato e penso anche che questo Covid sia un po' come la storia dei tre porcellini quando eravamo piccoli. Il Covid è il lupo, ma poi comunque ognuno ha fatto la propria casa nella vita. Quindi quando io leggo questa favola ai miei figli, non è che dico la morale è uccidere il lupo, la morale è che devi avere delle risorse, che ti devi impegnare in alcune cose, altrimenti qualsiasi forma di crisi, anche di coppia, se non hai delle qualità, se non hai delle risorse, ne vieni travolto. Allora io dicevo, tante persone sono morte, noi viviamo, credo che sia nel cuore di ognuno di noi che questo pianeta sia in sofferenza. Non sono tanto sicura che sia nel cuore di ognuno di noi, purtroppo. Deforestiamo perché così la gente possa mangiare la carne quattro volte al giorno, ci sono due terzi del pianeta che producono tre volte la quantità di cibo necessario e un terzo muore di fame. C'è tutta una cosa, la macchina aveva le ruote bucate, non si poteva fermare questa macchina, perché fino a un anno fa, a dire a una persona che doveva chiudere il ristorante, la palestra, la città o la nazione era fantascienza. Siccome è successo nel mondo, credo che noi ci troviamo davanti a una cosa così unica e rara che è una grande occasione. Attraversare l'inferno per poi ritornare alla selva oscura davanti alla lupa, mi sembra veramente una grande periode, e le persone morte in questo caso morirebbero due volte. Ecco, questo è stato il mio tema. Senta Fabio Volo, una cosa rapidissima, ma... Adesso è stata una bella questa riflessione e dovremmo veramente pensarci tutti molto molto di più, per non far finta che tutto torna come prima. Ma anche personalmente, io non sono più la persona di prima del Covid, se io fossi la stessa persona sarebbe più un idiota, perché una situazione così mi deve aver messo di fronte a me stesso, alla mia vita, ai miei figli, alla società. Non può essere che è passato, speriamo arriva il vaccino, vacciniamoci, il problema è risolto, perché fra cinque anni, altrimenti o dieci anni, ci ritroveremo allo stesso punto di prima. Si accende la foresta e la si spegne, ma se non capiamo perché si incendia la foresta, il tema non cambia. Cos'è la cosa più rilevante che è cambiata in lei, in questo oltre anno di pandemia? La relazione con la mia famiglia, con il mio lavoro, con il mio tempo, con le cose importanti, il rapporto con la famiglia di provenienza, la famiglia in quanto padre. Cioè, mio figlio che ha uno ne ha cinque, uno ne ha sette, mi parlano di Covid, mi chiedono se la zona è rossa. Io sono un padre, ho delle responsabilità, io a mio figlio non posso dire ti ho messo in un mondo brutto, ti devo dire vale sempre la pena vivere perché il mondo è meraviglioso. Quindi tutta questa attenzione sul Covid va benissimo, però dobbiamo anche dire che l'aumento di psicofarmaci, pensi che è aumentato del 35% l'anoressione delle ragazze. Non è solo un tema di Covid questo. Quindi parlare solo di Covid e pensando che il vaccino risolva il problema, è un'occasione persa. Perché nelle case piccole dove c'è stata grande tensione, è vero che è una questione di misura dei metri quadri, ma non è che ai parioli la gente sbocciava ed era felice. Quindi vuol dire che forse c'è anche una misura del sentimento, una misura della relazione, della qualità della vita, di quello che uno mangia, di quello come ama, chi ama, chi segue. Insomma, grandi riflessioni.